Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, 14 dicembre, giovedì 14 dicembre. Intanto una piccola notazione di servizio, questa sera avremo come sempre 105 Matrix e domani sera puntata speciale di Matrix su un caso dell'Utri in carcere con un tumore e ne parleremo con tanti ospiti per capire se c'è o non c'è accadimento giudiziario. La rassegna stampa di oggi, che cerco e vi dico di condividere il più possibile, vi raccomando, ha vari temi. Diciamo che quello che oggi a me mi ha più divertito per deformazione ideologica mi verrebbe di dire è la questione no tap. Sapete, ci sono questi che si lamentano con il fatto che un tubo di un metrino venga interrato per 8 km in Puglia che ci darebbe indipendenza energetica rispetto alla Russia. Su questo si è fatto una gran cancan, gli alberi che vengono spostati, il rischio per le persone, tutte minchiate, ma questo poi, prima o poi io vi propongo di mandarvi i dati precisi, informazioni precise, anzi contestatemene anche qua perché sarò molto contento di rispondervi in diretta alle vostre, se riesco a leggerle tutte, alle vostre obiezioni. Ma la cosa più straordinaria, buongiorno Giorgio, la cosa più straordinaria di oggi è sempre presente Giorgio, devo dire a Hug è ormai per me il canto di battaglia ogni mattina. Bene, anche Massimo, buongiorno. Allora, una delle cose che mi hanno colpito oggi è sul quotidiano Il Giornale, che cosa ha trovato Fazzo nella quella specie di milie che appoggia i not-up leccesi, quindi ci sono quelli del Movimento 5 Stelle, ci sono pezzi delle istituzioni, c'è la sinistra, ci sono i centri sociali, nota giustamente Fazzo, si combinano quindi istituzioni e centri sociali, cosa più unica che rara. Ma i due capi popolo, uno dei due è uno che dice no a tutto, cioè qualsiasi cosa si faccia, anche se si albera, si pianta, non so, un melo invece che un pero, dice no, non si può fare. L'altro è il proprietario della spiaggia dove sarebbe interrato per qualche chilometro il tubo, perché la spiaggia non è ovviamente di migliaia di chilometri, di pochi chilometri, potrebbe esserci qualche ovviamente fastidio come ho avuto nella mia azienda quando hanno interrato i tubi nell'azienda agricola in Puglia proprio che ha la mia famiglia. Ma comunque lasciamo perdere la questione dei fastidi che ha lui, lui è a capo della banda secondo me per motivi legittimi più che per motivi grandi e strategici per i paesi. Questo signor Fasiello, secondo quello che dice oggi il quotidiano Il Giornale, fa gestire l'azienda a suo figlio, ed è di famiglia questa concessione che gli hanno dato nella spiaggia dove dovrebbe passare il tubo. Il figlio è stato condannato per favoreggiamento all'interno di un concorso per racket che doveva aiutare le mafie pugliesi. Allora, scusatemi, ma come mai il Movimento 5 Stelle, eccetera, che si preoccupa tanto, le istituzioni che si preoccupano tanto dei possibili inquinamenti quando vedono che uno dei capipopolo contro il no tap non solo ha un interesse legittimo, ma molto in conflitto di interessi perché la spiaggia è sua, ma oltre a questo c'ha una parte della sua famiglia condannata per favoreggiamento di un racket volto a vantaggiare famiglie mafiose? Ma pensate un po' voi cosa sarebbe successo se fosse stato per il sì invece che per il no, avrebbero detto le mafie sul gasdotto, qua possiamo dire le mafie contro il gasdotto, utilizzando termini che non mi piacciono populistici che in genere utilizzano contro quelli che non vogliono fare le cose. Leggetevelo con attenzione perché ne viene un quadro interessantissimo. Quadro molto incredibilmente non comprensibile, quello invece che è emerso dalle dichiarazioni fatte ieri da Silvio Berlusconi all'ennesima presentazione del libro di Bruno Vespa, io non ci ho capito nulla, gli piace, non gli piace Gentiloni, si continua con Gentiloni, i giornali non ci aiutano perché leggendo tutti i giornali e mettendo i pezzetti di diversi giornali insieme, quello che si capisce è che Berlusconi dice fino alle elezioni, fino al 4 marzo andiamo con Gentiloni, tutto sommato chi se ne frega, dopo che si sciogliono le camere farà e disbrigherà le attività correnti, il punto che mi sembra aver capito è che siccome secondo Berlusconi c'è la possibilità che non vinca nessuno, a quel punto dovrebbe rimanere ancora Gentiloni per 3 mesi, 4 mesi immagino e poi andare alle elezioni a ottobre un'altra volta, tanto i 3 mesi non sono da marzo quando vengono fatte queste elezioni perché fino a prova contraria, aprile, maggio, giugno poi non si vota d'estate, ho capito quello che volete voi, non ci ho capito nulla, quello che ho capito è che con questa legge elettorale state certi, non avremo, l'ho detto anche ieri in radio, è difficilissimo che avremo un governo, oltre che stabile non lo so. Gentiloni e Calenda sono diventati due nuovi miti, Gentiloni grazie anche a Berlusconi perché è diventato il candidato eterno, non fa nulla o fa poco o comunque eredita quello che è stato fatto nel passato e quindi diventa il candidato per tutti i colori, da Grasso a Berlusconi, certo non mi sembra a Salvini. L'altro candidato in pector, è inutile che ne parliamo oggi in Corriere della Sera, è Calenda, Calenda è un, secondo me sulla TAP, sulla questione IVA, ha ragione da vendere, mi piace moltissimo Calenda, ma c'è un piccolo problema su Calenda e se volete anche su Gentiloni che fino a prova contraria, i candidati non devono essere eletti sulla tratta Roma-Milano o in treno-Frecciarossa o in aereo, dove sicuramente Gentiloni e Calenda sono molto apprezzati, ma devono essere eletti in tutta Italia, cioè ci vuole il consenso popolare. Gentiloni e Calenda, secondo voi, hanno questo consenso popolare? Secondo voi, se noi portiamo Calenda ad Andria o a Brescia o a Reggello, sono tutti lì che conoscono Calenda, è una persona che secondo me farebbe benissimo anche Presidente del Consiglio, io non penso però che i giornali facciano il conti troppo spesso con il consenso elettorale, cosa che non ha fatto neanche Trump e i giornali godono come dei ricci, perché ha perso in Alabama, ha vinto un Democratico in Alabama, adesso la maggioranza è repubblicana, 51-49 al Senato, ma i giornali italiani godono come dei ricci, come io goderei, come ho goduto quando è stata sconfitta la Clinton, a ognuno il proprio godimento. Noi abbiamo avuto Presidente della Repubblica, pazzo come Trump e eterodosso come Trump alla Presidenza della Repubblica, loro godono perché ha perso il candidato, diciamo molto chiacchierato, dei repubblicani in Alabama. Devo dire che il comportamento di Trump, una volta che ha perso il suo candidato in Alabama, è disgustoso, sapete come io alcune pratiche di Trump, le tasse, Gerusalemme, sono cose che tutto sommato condivido, ma quando vedo che Trump scarica dopo un secondo il proprio candidato repubblicano, l'avevo detto io, mi sembra che un po' viziatello il nostro Trump lo sia. Uno avrebbe potuto dettere così, ma invece i giornali italiani godono come dei ricci perché ha perso. Mieli gli dedica un fondo, un fondo sulla prima, cioè io dico il Corriere della Sera ogni tanto i conti li fa veramente con dei lettori un po' strani, forse quelli che votano solo Calenda o Monti, perché dedica un fondo con il seguente titolo, ve lo leggo, titolo molto accattivante, me la sono persa, aspettate che ve la trovo, il titolo è i giudici giudicano soltanto i vinti, una cosa di questo tipo, adesso ve la dico esattamente il titolo della prima pagina del Corriere della Sera, se i giudici puniscono soltanto i vinti. E riguarda una roba che è venuta 20 giorni fa, e cioè vi ricordate quel generale che si è suicidato della guerra, il generale croato che si è suicidato per chi ha ingerito al Tribunale dell'Aia il veleno, Mieli fa anche un pezzo comprensibile che uno avrebbe dovuto mettere la pagina 32 del giornale, come approfondimento storico anche interessante, se non fosse altro perché è venuto un mese fa, ne abbiamo parlato tutti un mese fa di questa cosa. E comunque se volete avere un approfondimento su quello che è venuto 20 giorni fa, il Corriere della Sera gli dedica un fondo. Mentre Fiorello vince con il fisco perché non deve pagare l'IRAP, peraltro lui l'ha pagata e chiede il rimborso, quindi Fiorello è un mito, è un mito. Peraltro, aggiungo, si tratta di una causa che va avanti dal 2001 per l'IRAP pagata dal 1998 al 2001. Noi professionisti, senza stabile organizzazione, quelli che si mettono un microfonino come faccio io, utilizzano l'iPad per fare un programma televisivo o una, come facciamo insieme, una zuppa di poro da due anni e che traggono qualche beneficio, io da Facebook zero perché ovviamente non mi pagano, ma riuscisse a trarre qualche beneficio economico, non deve pagare l'IRAP perché l'IRAP è un'imposta orrenda ma chi non ha dipendenti o stabili organizzazioni non la deve pagare. Ecco ci ha messo 15 anni Fiorello per farsi valere il proprio diritto, che ancora del tutto, voglio dire, non è ancora chiusa del tutto la vicenda. Grande titolo corretto del Sole 24 ore perché è l'unico che lo cita, la Svizzera torna al segreto bancario. In realtà è un'idea di aggiungere un articolo 1 bis, anche gli svizzeri hanno l'1 bis a una legge che stanno approvando ora per rendere più difficile sostanzialmente comunicare a un non residente svizzero che ha un conto in Svizzera che c'è qualcuno, qualche Stato che sta controllando i suoi conti e il seguente non residente può dire alla banca svizzera guarda non glieli date perché le cose giuste sono queste. Sostanzialmente, ve lo dico io, è la risposta del paese più opaco del mondo dal punto di vista bancario al nuovo vento, cioè quello delle blockchain e dei bitcoin per cui nel futuro probabilmente la gente, il mercato cerca maggiore trasparenza. proprio nel momento in cui, lo ricordo oggi il fisco, il messaggero in Italia invece si va a controllare tutto, le cloud, i cellulari, tutto alla ricerca del fisco, la gente scappa. È una relazione che può piacere o non può piacere ma che sta nei fatti. Bastonata di Feltri alla Berlinguer che fa un'intervista ad Asia Argento, bastonata che si becca per altri aspetti anche da grasso oggi su Corriere della Sera, perché lo bastona Feltri che dice che si è presa col giornale e con Libero che non hanno difeso Asia Argento, tu sei una, com'è che dice, non mi ricordo, finisce, non basta un cognome per poter valere quello che non si vale, è una cosa tremenda contro la Berlinguer perché ha maltrattato l'idea che denunciare dopo vent'anni, che è l'idea di Feltri e di Libero ma anche del giornale denunciare dopo vent'anni è un po' ridicolo. Stiamo parlando del caso di Einstein, nel caso di Einstein oggi Salma Hayek che dice di essere stata anche lei colpita, leggetevelo sul Corriere della Sera, mentre tutta la storia del consigliere di Stato italiano è molto divertente, questo bell'uomo che voleva le ragazzine in minigonna, anche lì speriamo di vedere quello che succede nella realtà. Che altro vi devo dire? Nuove accuse a Sala per l'ennesima volta e Sala in questo caso che cosa dice? Dice sono perseguitato, l'ho già sentita, quando lo diceva Berlusconi invece era una ridicola difesa. Ryanair fa la fenomena e dice se scioperate vi riducco lo stipendio, c'è su tutti i giornali che renda se arrabbia, l'apertura della domenica non ho più tempo di farlo, ma Di Maio e il Movimento 5 Stelle secondo un ritroscena del Corriere della Sera strizzano l'occhio ai populisti, senti un po' tu, contro l'innovazione, proprio il figlio dell'innovazione che è il partito del Movimento 5 Stelle e alla Chiesa Cattolica. Vedendo come ragiona avvenire non è così ridicolo l'idea che i grillini e avvenire possano pensarla talvolta, purtroppo nella stessa maniera. Ciao, stasera 105 Matrix, domani Matrix a canale 5 e condividete, condividete questa zuppa. Ciao!